Ciao a tutti, siamo i Mages of Lotus, benvenuti in questo video della rubrica Keep or Sell in cui vi diremo se le carte che ci avete chiesto voi conviene venderle o se invece conviene tenerle Prima di cominciare vi invito a lasciare un like, attivare la campanella e ovviamente se volete darci un supporto maggiore ad abbonarvi qui o su Twitch Scusate Allora, passiamo alle carte, allora la prima ce la chiede Alberto che appunto è un abbonato e ringraziamo tantissimo Ed è fruttetto proibito nella versione Zendikar Expeditions Allora, intanto partiamo un attimo dal lato gameplay Allora, questa carta fondamentalmente si gioca in Commander e in Vintage In un deck in cui è una sinergia pazzesca con una carta, con questa carta qua, che si chiama What of Druids In sostanza, questo incantesimo ci consente di giocare una carta, mettere in gioco una carta dal nostro grimorio, nel nostro mantenimento Se un avversario ha più creature di noi Noi metteremo Atraxa perché grazie appunto al fruttetto proibito Noi, diciamo, regaliamo questi 1-1 spiriti all'avversario Quindi avrà più creature di noi e facciamo una Atraxa Diciamo che è una strategia abbastanza forte Allora, questo fruttetto è in questa versione, però ovviamente è più, diciamo, una cosa legata al collezionismo Allora, possiamo vedere come le copie disponibili siano poche, 105 E tra l'altro le probabilità di trovare una Zendikar Expeditions nei box che furono è veramente bassa E quindi sì, ci sono veramente poche copie in giro di queste carte Ma, come potete vedere dal grafico, in realtà la carta sta un pochino scendendo Perché? Allora, mi sono fatto due idee La prima idea è che sia legato alle carte serializzate Cioè, adesso tutto ciò che non è serializzato Ovviamente, salvo le carte in Reserved List Comunque tutto ciò che non è serializzato piace un po' di meno Interessa un po' di meno e magari c'è paura che scenda di valore E quindi cosa succede? Le persone tendono a vendere, a svendere magari questi prodotti qua La seconda ipotesi è legata alle ristampe che vedremo dopo Box Toppers Cioè, cosa vuol dire? Ci sono carte, vabbè, vi spoilerò già un Keeper Cell che ci sarà successivamente Comunque ci sono ristampe come questa Per esempio questa è Minas Morgul Quindi la carta del Signore di Anelli Ma in realtà è Cabal Coffers Siccome c'è la percezione che Prima o poi tutte queste carte, come dire, abbastanza forti Vengono ristampate in queste versioni qua E quindi ciò contribuisce a quella voglia di vendere E a mio avviso però le persone Adesso non so dirvi esattamente quando Ma come dire, nel lungo periodo Rivaluteranno un attimo queste Expeditions Perché è vero appunto che non sono serializzate Ma ce ne sono di meno rispetto alle serializzate Probabilmente dipende serializzate a quale tiratura E comunque in sostanza E tra l'altro un'altra cosa In realtà le serializzate Col fatto che ci sia il numeretto Insomma, scritto sulla carta Non è proprio un... Diciamo un gran plus il numeretto scritto E soggettivo, eh Però a mio avviso questo qua, Alberto, è un Keeper Adesso appunto è un pochino Stanno svendendo questi tipi di carte qua Senza il numeretto io quindi la terrei Poi abbiamo, scusate, abbiamo appunto Andrea Che ci chiede Cabal Coffers e Yavimaya Nella versione appunto Box Questa qua, versione Box Stoppers Del Signore dei Anelli Allora ci sono, adesso vi faccio vedere Ci sono 30 carte in questa versione I disegni sono, a mio avviso, fantastici Io sono di parte Perché oltre a essere un grande fan Di Magic the Gathering Sono anche un grande fan, forse di più Del Signore dei Anelli E... Allora, vediamo un attimo Dove si possono trovare queste carte Allora, queste carte Ne trovi una assicurata In un Draft Box In un Set Booster Box Oppure in un Collector Box Questo le trovi una assicurata Poi, nei Collector Hai... Queste sono cose che ho trovato su internet Dovresti avere una possibilità su tre Di trovare quindi una di queste In una bustina del Collector E una possibilità su 100 Di trovare la sua versione Foil Ovvero questa qua La versione Surge Foil Quindi una su 100 È veramente Insomma una probabilità Ardua E tra l'altro I Collector non è che costino poco Quindi sì Ce ne sono veramente poche Di Surge Foil Quindi tutto questo per dire Che secondo me Questi sono dei KIP Allora, non sono dei KIP Tutte le ristampe Dei Box Stopper Cioè non sono dei KIP Scusate tutte queste ristampe qua Cioè con nomi diversi Ma Se parliamo del Signore dei Anelli Io credo che queste carte qua Avranno sempre Un interesse nel corso del tempo Anzi, aumenteranno Spropositamente Nel corso degli anni Quindi a mio avviso Sia Minas Morgul Che gli Avimai Sono dei KIP Tra l'altro Cabal Coffers Adesso si gioca anche In un deck Modern Che è abbastanza forte Che è questo qua E c'è una sinergia Incredibile Con Urborg Tra l'altro Mi sono accorto adesso Che Cabal Coffers Non è neanche leggendaria Quindi veramente Con Urborg Riusciamo a fare Tanto di quel mana Che E poi con Karn Facciamo quello che vogliamo Mentre Gli Avimai Si gioca Soprattutto In Legacy In questi due deck qua Quindi Naya Depths E in Lens E quindi Un po' meno giocata Infatti Ha un prezzo Anche un po' più basso Ovviamente Il Come dire Qui siamo più Nel collezionismo Piuttosto che nel gameplay Però chiaramente Se una carta Si gioca Anche è un valore aggiunto E contribuirà A diciamo aumentare Un po' il prezzo Quindi anche questo È un keep E andiamo All'ultima richiesta Che è Di Riccardo Che ci chiede Solitude Nella versione Foil In inglese Mi sembra Allora Come ho Allora in un video precedente Ho parlato Di tutti gli elementali E tra l'altro In uno Dovrei riman- Di un elementale Dovrei rimangiarmi la parola Ovvero di Sottigliezza Di subtly Perché Nel momento in cui Registro Diciamo Sta salendo la carta Perché Perché Adesso la stanno giocando In modern Però Parliamo un attimo Di solitude Allora So Io comunque In quel video Vi avevo consigliato In sostanza Ero un buyer not Mi sembra Non vi avevo consigliato Di investire Negli elementali Perché Perché Credo che Saranno ristampati In Prima o poi Saranno ristampati Magari in dei secret layer Magari un secret layer Contenente Un singolo Un elementale Quindi Cinque secret layer Diversi E in sostanza Quindi vi avevo consigliato Il sell Però Scusate Di non investirci Però Quella domanda lì Era relativa Alle versioni Non foil Io sinceramente Solitude foil Lo terrei Perché Allora La carta Sappiamo tutti Lo sapete meglio di me Si gioca in tutti i formati E Si gioca in più copie E in più deck Quindi veramente C'è una richiesta Incredibile E le copie foil Non saranno mai Così tante Quindi anche se dovessero Ristamparli in una versione Secret layer Comunque secondo me La foil Tiene il prezzo Quindi io questa versione qua La kipperei E Niente Quindi bene ragazzi Vi Questi sono i deck Appunto in cui si gioca Solitude E Vi invito a Farci sapere Cosa ne pensate Di Di ciò che Di ciò che ho detto Di ciò che diciamo In generale E A presto Ciao